Una triste notizia arriva da Brescia, morto Idris, popolare personaggio televisivo e giornalista che divenne noto al grande pubblico per la partecipazione a quelli che il calcio. Grande tifoso della Juventus, Idris Sanne era ricoverato in ospedale da qualche settimana, aveva 72 anni. Come scrive Fanpage, la popolarità per Idris Sanne è arrivata quasi all'improvviso ed è stata fortissima. Fabio Fazio dal nulla creò quelli che il calcio. La prima puntata ci fu nel settembre del 1993 e ottenne un grande successo grazie a una squadra davvero competente, divertente e variegata. C'erano una serie di personaggi di spicco della Rai come Marino, Bertoletti e molti altri. Da qualche settimana Idris era finito in ospedale e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi tre giorni. Poi purtroppo la notizia del decesso.